calignaia 28 agosto 2019 bella giornata di mare anche se per tutta la mattinata c'è stata delle ampie velature in alta quota che hanno tappato praticamente il sole nonostante questo il c'era comunque tiepido tiepido calore il mare era praticamente un olio acqua fresca poca gente una bellissima giornata di mare un saluto ciao ciao